Cazzo non dovevo... Non dovevo farvelo vedere Vabbè ormai l'avete già visto il baule magico Però non ho solo queste ceste Ma bensì molte molte altre Ho aspettato tutto questo tempo per trovare i barbari scelti Non ho capito perché si chiamano così Però noi lo dobbiamo trovare Allora facciamo una cosa Per ogni cesta facciamo un attacco così Anzi due ceste dai Ovviamente la super magica alla fine Iniziamo No ma che imbecille che sono Dovevo prima spacchettare Che idiota che sono Vabbè vabbè fai niente Oh cazzo ho sbagliato rega Oh che culo Che culo Non sparare Non sparare Oh mio dio Rega il mio cuore si è fermato per qualche secondo Che benessere Possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo Per fare tre stelle Almeno che l'avversario non entri in questo momento Si però qua dobbiamo fare in fretta eh Se rientra siamo fottuti ve lo dico Vai moschettiere dagliele così Che probabilmente è più pesante di te quel fucile Anzi visto che abbiamo fatto tre stelle Apriremo tre bauli Che ne dite eh eh Sono un genio Uno Che culo Alla seconda carta Questo mi fa capi Oh Questo mi fa capire che è una carta di merda I barbari scelti Esatto perché ne troveremo a miliardi Guardate quanti E' il bello che qui c'è un'offerta Cento geme per quattrocento Ma noi probabilmente ne troveremo qua Quattrocento miliardi in queste ceste E quindi non sprecheremo le nostre cento geme Come molti ma molti altri farebbero Andiamo ad attaccare Se ne vinco una Ne devo anche perdere un'altra E' la legge Non mi colpire Eh me l'ha colpito Dagli un colpo Guardavo così Moschettiere Allora dobbiamo fare fuori quella capanna Perché la odio con tutto il cuore Mi spiace per quelli che usano la capanna Però vi odio Vi odio con tutto il cuore E to' questa To' il mio tronco Ma abbiamo preso anche lui Forse siamo fottuti Ma non lo so Anzi siamo fottuti Sì sì Oh oh Ma Regà cosa vi ho detto Ne devo vincere una E ne devo perdere anche una Perché è così regà È così Però Però non è ancora detta Possiamo ancora vincere La possiamo ancora vincere La possiamo ancora vincere Ma dai Ma perché non gira Perché cavolo non gira Quello scheletro gigante Fallela fuori Fallela fuori Dallela un altro Grandissimo Vieni qua No Ma visto regà non gira Però regà Questo è script Non girava lo scheletro gigante Boh Io non ho parole Vabbè Apriamo Oh niente Che novità Un'altra fulmine Oggi Fulmini a go go Cioè regà Io se trovo una leggendaria Per me il video può anche finire qua No scherzo Ho un baule Leggendario Quindi restate fino alla fine Wow 53 Ne abbiamo già 106 Epica Regà è una leggendaria Datemi uno schiaffo Datemi qualcosa Perché io secondo me Sto fagnando Cioè questa è una leggendaria Mi stai dicendo Nooo Nooo Non ci credo E fa un culo a tutti quelli che gemmano e sprecano soldi Te Wow Non ho parole Io 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 sono obo E vai così Un'altra Un'altra leggendaria E da un casino Che non ne trovavo una Credete sia finita qui Ma bensì Ho altri bauli Guardate quanti Sì ho fatto tipo una magia E sono comparsi No regà È semplicemente il mio secondo profilo E non vedo l'ora di spacchettare tutto Dammi il barbaro anche qui Dammi il barbaro scelto Sì me l'ha dato Voi non l'avete visto però me l'ha dato Barbaro scelto Barbaro scelto Regà Non è che è una leggendaria Regà è una leggendaria Oh mio dio Non è una leggendaria Però sono i barbari scelti E ci manca un altro baule maglio Regà 6666 No questo non va bene Non va bene regà Io ho paura di questo baule Regà se trovo una leggendaria anche qui Oh oh Non è una leggendaria Va bene Va bene così 3 epiche Dai Ci stava Sono già contento per il drago infernale Ma voi direte È finita qui Adesso termina il video No Ho altri bauli Stavolta non è il mio terzo profilo Perché non è che posso avere 3000 profili Ma bensì È di Simo che è un mio amico Ho fatto anche qualche video con lui Due video Che vi lascio qui in descrizione se volete vederli Ha un baule leggendario Regà Oh mio dio In questo episodio abbiamo trovato due leggendarie Wow Questo episodio è il più epico secondo me Barbari scelti ovviamente No te mi stai prendendo per il culo No 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 regà No aspetta no no C'è io No 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 non credo Cioè non credo Cioè non credo Probabilmente è un'illusione Sì sì Secondo me è un'illusione Cioè è tipo un ologramma No, 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 no Non ci credo, regà, no Vabbè, io, regà, io terminerei qua il video perché è già epico così Però abbiamo un altro favole leggendario E non vedo l'ora di aprire e vedere che cavolo c'è Io spero sia la principessa Perché non l'ho mai provata in vita mia E apriamolo Mago di ghiaccio Mi piace, mi piace Ho trovato a Sibu2 leggendario Regà, questa cosa non era prevista Infatti il video uscirà molto più lungo Non era prevista questa cosa Io posso ritirarmi Come grazie per questo episodio è tutto Se vi è piaciuto lasciate mi piace e commentate Discrivetevi Stavo per concludere il video Clicca a caso, wow Non si sa mai che troviamo un'altra leggendaria Vi immaginate? Bene così, non abbiamo trovato niente Come grazie per questo episodio è tutto Se vi è piaciuto lasciate mi piace e commentate Discrivetevi Noi c'era al prossimo gioco con un prossimo video Bene ragazzi Buongiorno Ah ho già perso, che bello No No Che fa creda Che fa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti